Buongiorno a tutti quanti voi. Il Signore vi custodisca sempre sotto il suo sguardo misericordioso e vi colmi della sua grazia, della sua misericordia, del suo amore. Oggi voglio parlarvi di un atteggiamento che è importantissimo. E qual è? La gentilezza. Essere persone gentili. Ma cosa significa? E che cos'è la gentilezza? Un giorno un ragazzino chiese al nonno Nonno, quanto è importante essere gentili? Ne avevano parlato il giorno prima a scuola con l'insegnante. E il nonno che era abituato ad essere una persona per bene, sempre disponibile, sempre premurosa Disse, la gentilezza figliuolo vale quanto una banca. Il ragazzo non capì la risposta. Anzi, proprio vicino a casa sua c'era una banca, una piccola casetta dove gente entrava e usciva dalla banca. Disse, ma non è un granchè questa banca, quindi per il nonno forse la gentilezza non vale molto. E allora il nonno capì che il bambino non aveva compreso. L'indomani mattina prese il bambino e disse Vieni con me, che devo andare in banca. Entrati in banca, chiese un favore al direttore Ci fa vedere le casse forti dove viene conservato tutto il metallo prezioso? E così il direttore aprì le cassette e ce l'ha custodito ogni bene. Perle, collane, bracciali, buoni in soldi. E capì il bambino che la gentilezza era qualcosa di prezioso. E noi che concezioni abbiamo della gentilezza? Vedete, molte volte basterebbe rispondere ad un messaggio che ci viene inviato, ad una richiesta che ci viene fatta e porteremmo con una nostra parola, con un nostro gesto, con una nostra risposta, un po' di pace nel cuore altrui, un po' di serenità nel cuore altrui. Riceviamo del bene, non sappiamo dire neanche grazie. Abbiamo la possibilità di fare un'opera buona e non la facciamo. Ecco, io esorto tutti voi ad essere persone gentili nel volto, nel sorriso, negli occhi, nelle mani, nei vostri atteggiamenti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Mentre vi saluto e vi abbraccio, mandandovi un bacio fraterno, vi do un appuntamento alle 17.20 per pregare insieme il Santo Rosario a Maria. Buona giornata a tutti e siate sempre gentili, mi raccomando. Grazie. Grazie.